Il Città di Verbania espugna briga per 3-0 e torna a vincere fuori casa dopo oltre due mesi di astinenza. Al primo i bianco cerchiati sono già in vantaggio. Azione iniziata da Tonsi, rifinita da Tiboni e conclusa in rete con un colpo di terza ad Asero. Ancora Verbania al dodicesimo, azione di contropiede degli ospiti con Calloni che lancia sulla destra o Asero, che corsa Pabini che manca l'aggancio con il pallone. Un minuto dopo, angolo di Tiboni, terza di Asero e Baccin in due tempi fa solo la sfera. Alla mezz'ora, Calloni ci prova da metà campo, Baccine non è impeccabile e non riesce a trattenere. La palla arriva Tiboni che cerca ancora Calloni, il tiro è respinto dalla difesa di casa. Il primo tempo è un monologo ospite, questa volta cross di Tiboni per la terza di Bini che manda alto. Al quarantesimo il 2-0 e cosa fatta? Cross dalla destra di Asero per Bini che trova la zampata vincente. Nel corso dell'azione si infortuna Tiboni che è costretto a lasciare il campo. Ad inizio ripresa il città di Verbagna, Seveltris, Asero a Padecchia per Bini che da pochi passi infila il 3-0 ospite. Al ventunesimo Minniti prova a sport dei suoi, conclusione però totalmente da dimenticare. Alla mezz'ora ancora Minniti da distanza, tutto facile in questa circostanza per Carli. Al trentacinquesimo Tonsi apre per Asero, controllo e stop sono d'applausi. Come l'intervento di Massara a salvare tutto al novantesimo, punizione nel limite di Calloni. Solo il palo nega la gioia del gol al capitano ospite. E l'ultima azione in cronaca di una partita che città di Verbagna si aggiudica per 3-0.